con noi oggi c'è anche Pinky in rappresentanza di tutte le donne mi sento di dire per questa grandissima manifestazione che è wall of dolls e che è qui nella bellissima piazza di Genova quindi grazie Pinky per essere qui con la tua forte testimonianza grazie a voi ci tenevo tantissimo a venire qua poi Genova è la mia città e quando mi è successo il fatto sono stata ricoverata qua all'ospedale a Villa Scassi di Genova quindi per cui ho avuto la seconda vita per me Genova nel cuore la porterò sempre nel mio cuore ci tenevo tantissimo essere qui a portare la mia testimonianza perché è un messaggio che deve arrivare tutte le donne al di là delle donne italiane le donne straniere perché non si sentano sole io ce l'ho fatta nel momento più buio nel momento più triste sono stata aiutata da wall of dolls che mi hanno preso la mano ma non mi hanno più fatto sentire sola e questo è quello che voglio fare anch'io aiutare queste donne a non sentirsi più sole perché noi ci siamo ci saremo sempre anche perché in certe situazioni ci può essere quasi il timore di sollevare la testa di chiedere aiuto magari per una donna che ha subito una violenza e si vuole forse quasi nascondere invece tu con coraggio sei qui a rappresentare chi è riuscito in qualche modo a non dico uscirne fuori ma comunque a trovare una strada per andare avanti si esatto come dici tu non è facile denunciare spesso le donne non si rendono neanche conto di essere nel vortice della violenza spesso le donne si vergognano paura del giudizio altrui ma queste donne bisogna capire che anche a livello psicologico vengono rese talmente deboli che hanno paura della loro stessa ombra bisogna dirle queste cose perché queste donne hanno bisogno di un supporto psicologico hanno bisogno di aiuto hanno bisogno di capire che devono dire basta devono denunciare che rispetto una vita migliore noi siamo qui oggi per dire no ma non soltanto oggi per dirlo tutto l'anno no alla violenza sulle donne grazie esatto esatto con wall of dolls su 365 giorni su 365 facciamo campagne di sensibilizzazione aiutiamo donne appunto perché questa giornata non deve essere ricordata solo un giorno la violenza è tutti i giorni ed è importante che si lavori tutto l'anno che queste donne si aiutino tutto l'anno e non solo un giorno all'anno grazie grazie davvero